Tanti difensori in campo, ma Gilardino vi chiede grande coraggio in particolare a te. Hai giocato il Mondiale in tanti stadi, ma in settimana hai detto questo è uno dei cinque stadi che ti dà più la carica al mondo. Serve questo o cos'altro serve nel secondo tema? È certo che è un stadio che ti dà la fiducia, ti dà la motivazione, ma penso che stiamo facendo una grande partita con coraggio. Pensavi fosse rigore? Mi ha toccato, ho parlato subito con l'arbitro, mi ha detto che mi ha toccato, che io lo ha toccato a lui, però vediamo. Bocca il lupo.